Potente appare ragazzi, qua Axel, oggi è il mio canale, sono da solo e sono qui a presentarvi sul mio nuovo video E ragazzi questo qua è il mio nuovo video abbastanza ambiguo e particolare, contemporaneamente ambigolare Perché ragazzi questo qua sarà il nuovo contest perché io avevo promesso appunto di fare un contest al mese E ragazzi sto mantenendo questa promessa, non ho fatto uscire il video il 31 o l'1 questo perché Innanzitutto perché ieri avevo troppe cose da fare, infatti anche oggi tecnicamente non macello Però tra anche io volevo farvi un contest e quindi lo sto facendo E secondariamente non l'ho fatto sabato perché anche sabato avevo altre cose da fare E poi speravo, o meglio stavo aspettando che Batison caricasse il video sul suo canale Che però ho appena scoperto che non lo caricherà nemmeno, quindi è una cosa abbastanza tattica Comunque dettagli, partiamo subito col video Allora questo qua è un altro conto di 100.000 crediti Ragazzi ora magari voi vi starete chiedendo quello vecchio, chi è che ha vinto Ragazzi se avete fatto tutto ciò che ho chiesto nell'altro video lo saprete perché Perché non ve lo dico, quindi se avete fatto tutto quello Andate a controllare la pagina Facebook e magari alla grande capirete il motivo Perché io non ve lo sto dicendo adesso Quindi in poche parole ragazzi ho fatto l'estrazione Ho linkato il video sulla pagina Facebook, non dovevo dirvelo però trunk Ed eccoci qua a presentarvi questo nuovo contest Innanzitutto ragazzi, una cosa da dire L'estrazione l'ho fatta in un modo diverso E la farò in un modo diverso anche in questo contest Perché bene si ragazzi, come potete vedere ho deciso di fare l'estrazione Ehm... non estraendo un numero Pensi i 100.000 crediti li darò E li darò all'iscritto più attivo Ragazzi mi ero promesso di fare il pink palette con l'iscritto più attivo Però non avendo FIFA anche per Play 4 o Play 3 Ehm... ho detto E se capitassi uno di Play 3 Non posso dirgli di no Quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare Ehm... di fare questo contest Di regalare questi 100.000 crediti all'iscritto più attivo Innanzitutto ovviamente non glielo regalerò adesso Bensì darò un termine Infatti questo contest cadrà il 21 dicembre Perché è il 21 e non il 31 Innanzitutto perché è il 31 il mio compleanno Però il 21 Magari il 22 vi carico un altro contest Appunto come mio regalo di Natale Magari anche 500.000 crediti Comunque questo è tutto da vedere Innanzitutto ragazzi qua adesso come potete ben vedere Questi qua è l'elenco dei fan dei miei iscritti L'elenco dei miei fan più attivi Al primo posto E ragazzi YouTube l'ha aggiornato Perché se vi ricordate Se vi ricordate non era così Allora Al primo posto sia Valerio Non vi dico il cognome se non mi sbaglio Al secondo posto Edi Stefan Al terzo Luca Brunetti Al quarto Riccardo Comics Al quinto Wizard E invece poi Adesso vi vedete un attimo Questa qua è la prima pagina Se vi trovate sappiate Che siete nella top dei miei iscritti più attivi Diciamo E comunque cosa farò io il 21 Il 21 Andrò sempre su questa lista E proprio al primo Andrò sul canale del primo In questo caso Valerio Non vi dico il cognome Farò informazioni E invierò un messaggio Scrivendo Complimenti Sei il mio iscritto più attivo Grazie mille Sei un magicone E hai vinto 100.000 crediti Quindi una cosa abbastanza tattica E forse ragazzi Darò 100.000 crediti al primo 50 al secondo E 25.000 al terzo Questo è ancora da vedere Magari se potete Scrivetemelo nei commenti Ora la domanda più ovvia qual è Come diventare Come faccio a diventare L'iscritto più attivo Eh ragazzi Una cosa abbastanza tattica Perché per diventare L'iscritto più attivo Sono da fare Abbastanza passaggi Però molto semplici Innanzitutto Per essere l'iscritto più attivo Bisogna ovviamente Essere iscritti al mio canale Secondariamente Bisogna guardare i miei video Ma le cose importanti Quali sono Dopo aver guardato i miei video Bisogna mettermi piace a questi video Bisogna aggiungere preferiti E commentare i video Non dico che Se uno non fa queste cose Non è il mio iscritto più attivo Ma Credo E sono abbastanza sicuro Che l'iscritto più attivo Fa sempre queste cose Quindi è una cosa abbastanza tattica E E facile Quindi ragazzi Per diventare l'iscritto più attivo Cosa dovete fare Innanzitutto dovete guardare i video Che non avete mai visto Bisogna mettere mi piace ai video Aggiungere preferitevi questi video E commentare i video Poi ragazzi Volevo fare anche una cosa simile Sulla pagina facebook Solo c'è Ho visto che c'è un'app Che ad esempio la usa Zodatz E che anche Zodatz Fa questo tipo di contest Insieme con l'iscritto più attivo Ehm Dove praticamente facebook Gli dice qual è l'iscritto più attivo Sulla persona più attiva Sulla pagina facebook Io non ho ancora capito come si faccia Però oltre anche Ecco perché Lo sto facendo su youtube Quindi ragazzi Questi qua erano i secondi passaggi Per diventare l'iscritto più attivo Un'altra cosa dovete fare Per partecipare a questo contest Diciamo Bisogna mettere mi piace Alla pagina facebook Trovate il link in descrizione Se non avete facebook E mandate un messaggio privato Vi risponderò scrivendo cosa dovete fare E Se iscritti al mio secondo canale Link lo troverete in alto a destra Oppure in descrizione Quindi ragazzi Questo qua Era il mio nuovo contest Spero che abbiate capito tutto Durato un po' troppo il video Mannaggia la salsettina e salsicciosa E quindi Detto questo Vi saluto Mi raccomando Partecipate in tanti Ovviamente iniziate a commentare Già da questo video E quindi Detto questo Vi saluto Vi dico potente A pala Al prossimo video Bolla